La vicenda contrattuale sta ormai sfuggendo di mano al ministro Bianchi e forse anche all'intero governo. La situazione francamente appare piuttosto grave. A tutt'oggi l'Aran non ha ancora dato avvio alla trattativa nonostante che, per quanto se ne sa, l'atto di indirizzo sia stato approvato dal governo già da tempo. Nelle settimane scorse gli stessi sindacati avevano spiegato che non sarebbe stato opportuno aprire la contrattazione mentre erano in corso le elezioni per il rinnovo delle RSU. Adesso però non dovrebbero esserci più motivi per un ulteriore rinvio. La vicenda, come sappiamo, è in ballo da troppo tempo e sui possibili aumenti stipendiali le promesse delle diverse maggioranze di governo che si sono succedute dal 2018 in avanti non si contano. Nell'aprile del 2019 erano stati Bussetti e Conte in persona a sottoscrivere con i sindacati un accordo in cui si parlava di aumenti a tre cifre, anche se poi nella legge di bilancio approvata a fine anno non furono inserite le risorse necessarie. Nel maggio del 2021 era toccato poi a Bianchi firmare un nuovo accordo, il cosiddetto patto per la scuola, per ribadire un'altra volta la centralità della scuola e la necessità di valorizzare il lavoro del personale e dei docenti in particolare. Accordo va ricordato solennemente sottoscritto alla presenza dei segretari generali delle confederazioni sindacali, ma di fatto nello stesso tempo nei documenti di economia e finanza adottati è stato sempre ribadito che le spese per la scuola sono destinate ad essere ridimensionate anche in relazione al decremento del numero degli alunni. A questo punto il contratto potrebbe essere firmato, nella migliore delle ipotesi, in concomitanza con l'avvio del prossimo anno scolastico, con un risultato paradossale. Il contratto sarà quello del triennio 2019-2021, quindi nello stesso momento in cui verrà sottoscritto sarà di fatto già scaduto. E infatti in questo momento il personale della scuola sta percependo non solo l'indennità di vacanza contrattuale del triennio 19-21, ma anche quella del contratto 2022-24 che è ancora di là da venire. Tutto questo mentre il costo della vita sta salendo come non mai. L'Istat parla di un incremento superiore al 5%, che non potrà certamente essere coperto con i 50 euro di aumento netto che si prevedono. È pur vero che ormai il ritardo nella firma dei contratti sembra essere una regola generale. L'Istat segnala che il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto tra marzo 21 e marzo 22 è aumentato da 22,6 a 30,8 mesi. Ma per la scuola si tratta di un vero e proprio record, perché si parla di ben 40 mesi di ritardo. Tanto che anche i sindacati maggiormente rappresentativi stanno iniziando a parlare di sciopero o quantomeno di azioni di mobilitazione. Comunque il 6 maggio prossimo è già previsto uno sciopero proclamato da Unicobas, Cobas, Cobas Sardegna, USB, Cube e Anief. Ovviamente noi su tutto questo continueremo a tenervi informati, quindi voi seguiteci su questo canale ma anche nel portale www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci le vostre lettere, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.